Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Allora, come al solito siamo di nuovo su questa sorta di scacco e matto E oggi, come vediamo un po' dallo schermo un po' particolare C'è una sorta di tipo donna ninja, no? Ora, insomma, vi farò vedere Naturalmente lo scacco e matto è uno scacco matto Quindi, appunto, bisogna utilizzare della canna mela Non è cannella, ma è canna mela Cioè, praticamente, un coso, un insaporitore per carni Questo sarà, diciamo, l'obiettivo Cioè, cibarci di questa schifezza Bene, allora, innanzitutto, vediamo qui il gioco Allora, sì Ok Allora, di che gioco si tratta? Si tratta di The Unfair Platformers Diciamo che è molto simile a Mario, come si chiama Però è più ganso perché c'è la donna ninja Quindi, allora, andiamo subito a giocare Praticamente, cosa succederà? Un' volta che io muoio Qui, come vediamo Non qua, ma Qua C'è una grossa apertura Non so se notate E io dovrò inghiottire questo schifo Vi assicuro che è schifoso perché è un insaporitore E contiene Allora, sale Rosmarino, aglio Salvia, basilico, ginepro, pepe nero Quindi proprio il peggio del peggio Allora, allora, vediamo subito un po' Allora, guardate A me questa donna veramente Mi sembra la donna ninja Guarda, guarda là No, non so se Allora, guarda Guardate come corre Che Fa tipo dei salti Aspetta Oh Ok Cosa? No, no Aiuto Chifo Chifo Andiamo Ok Allora, vediamo se Sembra un po' l'arrosto Allora Cosa? Cioè, no però Ok Allora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ecco This is a trap Oddio, ok Wow, non è che ora No, aspetta Guardate Aspetta Che fa? Ah, ok No, credevo Cosa? Mi brucia tutta la gola No E poi il bello è che Questo dovrebbe essere Ah, sì Il tutorial Allora Ma Com'è possibile? Mi sta Va a fuoco tutto Ancora, ancora, ancora Ma Basta Basta Per favore Basta Salta Salta 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Ma no Ma Ma Com'è possibile? La settima volta La settima Basta Ma Cioè Fa schifo la donna ninja Non salta Non Ah, no Ma adesso Oh Ok Ok Non ci credo Ok Allora Ci risiamo A parte sta musichina che Vi assicuro che dopo poco Tipo La ricollegherete A questi schifi Allora Questa è una trappola Oh Checkpoint 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 Ok 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 Dannata Cannamela Fa schifo Cavolo è Non lo so Mi si aprono i cosi dai blocchi Cioè Ma che schifo Cioè No No Veramente Boom Fa Boom 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 E mi si aprono i blocchi Ma 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 È impossibile Allora Ancora 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 Insiste Continua Basta Basta Ecco Signora Guarda Questa Che fa Che fa Non è Ma si Bloc Appaiono i blocchi A caso Cioè Io sto giocando Corro Così Blocco Blocco E cioè Cioè Già Questi cosi Fanno Così Poi uno Cammina Blocco E va Vai a morire Cioè ok allora sto ripreso ma allora salta salta cioè è impossibile no veramente è una cosa schifosa proprio cioè è proprio lo schifo più totale cioè è impossibile no è impossibile ma è impossibile proprio cioè è lo schifo ma voi salta guarda guarda ma guarda no ora no non voglio morire perché allora non ci credo la diciottesima morte mamma guardate se mi schianto qua ne succedono delle brutte allora com'è possibile ma Sto gioco Che fa? Va avanti da solo adesso E' impazzito E' impazzito Mi sta Mi vuole suicidare con sta cosa La canna mela Oh La donna ninja Impazzita In parte Che ho scoperto Avevo scoperto Che Non lo so cosa Cioè Dopo pochi minuti di gioco Già ho fatto 23 morti Vi consiglio di provarlo Perché Dopo un po' Vedrete Ma la fai più Sto morendo Sto morendo Sto morendo